Musei Fiorentini aperti per Pasqua e Pasquetta. Domenica osserveranno il normale orario d'apertura dei giorni festivi. Per il giorno di Pasquetta, grazie all'accordo raggiunto tra la soprintendenza e le rappresentanze sindacali e al sostegno del concessionario Firenze Musei, saranno aperti straordinariamente la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell'Accademia dalle 8.15 alle 18.50, il Giardino di Boboli, il Museo degli Argenti e la Galleria del Costume dalle 8.15 alle 18.30. Aperto anche il Museo di San Marco. Pasqua cade nella prima domenica del mese per cui l'ingresso è gratuito. Aperto anche Palazzo Vecchio, il percorso archeologico sarà accessibile al pubblico dalle 9 alle 19.00 e si potrà salire anche sulla Torre di Arnolfo. Domenica a Firenze l'appuntamento è con il tradizionale scoppio del carro. Il brindellone fu realizzato la prima volta nel 1622. A forma di torre alta 2-3 piani viene trainato da due vuoi ornati con ghirlande in giro per le strade di Firenze, fino a Piazza Duomo, nello spazio che si trova tra il Battistero e la Cattedrale. Il carro, ben fornito di fuochi d'artificio, viene acceso dalla Colombina. Se il rituale procede regolarmente e tutti i fuochi d'artificio esplodono, allora si prospetta un raccolto ricco e florido e buona fortuna per la città e per i suoi cittadini. È per questo che ogni anno tutti sperano uno scoppio del carro perfetto. Grazie a tutti.